Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di LeonTrip, bentornati in un nuovo episodio di Gran Turismo Sport. Oggi siamo qui ragazzi con Gran Turismo Sport per continuare la nostra avventura. Allora, non vedo niente perché ho sto coso qua, ok? Quindi non vedo solitamente niente, perché oggi proviamo a andare a fare il gioco. Guida? Posso dire guida? Guida, voglio la guida. Ragazzo, va bene ragazzi facciamo questa, dai va, via. Curve come se non ci fosse un domani. Di giorno, grazie. Ok, ci facciamo una garetta con la nostra M6, che dite? Quindi, inizia, vai, si può iniziare, da febbra. Oh, cazzo, ok. Ci siamo? Eh, bello? Non è male. Aspetta, 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 aspetta. Fermi tutto. Oh! Come provo a tempo? Ma con questo qua? Oh! A me non ce la farò mai contro quello lì. È troppo veloce. Aspettami! Pizzarola. Mi sa che non mi aspetta quello. Oh! Mi viene da vomitare. Allora, fermi tutti. Oh! I miei riflessi. Vieni, vieni. No, non ti preoccupare che adesso arrivo. Non si può stare il sedile. Vai. Guarda. Aspetta, aspetta, ragazzi. Devo fare una cosa assolutamente. Guarda che bel campo di Pannocchi, che è quello là. Ok. Aspetta. Momento. Sorpasso pulito! Sorpasso pulito! Quasi. Quasi, quasi, quasi. Quasi pulito, eh. Ok, era troppo, era troppo. Dov'è la gara qua? Posizione seconda, ok. Uuuuuh! Aia. Non è successo niente, non è successo niente l'auto. Non è successo niente, questo. È un casino! Ok. Va bene. Va bene. Fermo, 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 fermo. Sono a culo, eh. Ancora qua. Non ti ho mica mollato io, eh. Aspetta, porcaccia, la miseria. Grande sorpa... No! Non vale! Non vale, bastardo. Mi ha spinto. Avete visto che mi ha spinto? Spicchietto di merda, eh. È un'auto fighissima. Questo spicchietto qua mi mette. Vai, furia! Dai che sul retellino qua lo bruciamo, raga. Qua provo. Prena! Cazzo. Con la sta sventolata la mattina verde. Sventolata la mattina verde. E' un po' in silenzio, raga, barge. Non so se riuscirò a finire la gara, ma... Il mio scopo adesso è cercare solo di finire la gara. Che non importa che posizione arrivo, primo o secondo, non mi interessa. Devo finire sta gara. Ma si piantano ste cose. Ma si piantano ste cose. Ma mi viene da vomitare. Ma mi viene da vomitare. Allora. Campionato principianti. Qua, FF. Vai. 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 Ok. Cioè, allora, il VR è fighissimo. Però devono nettamente alzare la risoluzione. Perché, cioè, se no così... Cioè, non si può. E' proprio... Non è che sia un delirio di più. Ah, questa non frena proprio. Ok. Scusate. Momento, perché questa non frena, raga. Oh, guardate! Non gira neanche. Ok. Momento. Vai, vai. Aspetta, aspetti. Si lei dei coglioni, lei. Ogni volta. Vada, vada. Permesso. E va, tra l'unque il bidone lì di Megan. Più di così. Aia. Ancora sta me i gun? Se ne vada! Oh, oh, oh! Ok. Fermi tutti. Ho mai visto una schiappa guidare. Più schiappa di me. Allora. Aspetta, un attimo che... Aspetta, un attimo che facciamo un po' fischiare queste ruote. È un disastro sta gara. C'è il freno spinto tutto a chiodo, eh. Stava, vado a mettere l'ABS perché ho visto che qualcosa, secondo me, è meglio averla. Austin, arrivo. Domani, forse. Vai, vai. C'è un'altra auto di fianco, ragazzi. Non lo so. Ok. Ce la fai con sta megana ad andare avanti? Eh, dai, eh. No, devi scendere a spingere. Cioè, scendi e spingila. A tutto punto. Ah, la mia curva, la mia curva, la mia curva. È la mia, è la mia, è la mia. Sì, sì, sì. Va bene. Sì, si poteva fare molto meglio volendo, eh. Boh, boh. Sì, decisamente molto meglio. È un po' larga, è un po' larga. Non tantino. Ok, vabbè, terza. Niente. C'è un altro giro? Quanti cazzo di giri ci sono qua? Eh, per guardare i giri. Scusa, scusa. Uh. Farina? Farina! Posso. Basta un filino d'acceleratore questa sgomma, eh. Poi aspetta, magari quelle prepotenti. C'è una Lamborghini che faccio. Dai, costa, focus. Ah, allora. Beh, a parte che queste qua sono, dovrebbero essere... Le gare iniziali dovrebbero essere tipo da barboni. E noi le stiamo bellamente fallendo, mamma. Questa è la mia curva. È la mia curva questa, vero? Sì, sì, sì. No! Ferma, freno ancora. Antropelino, va. Ah. Questa volta l'abbiamo fatta. E prima o poi... Dopo 3-400 volte che la faccio, ragazzi, qualcosa imparo, eh. Però ci vogliono ancora... Cioè, prima ci vogliono 3-400 giri. Taglia, taglia, taglia. Impossibile. Ok. Dai che non c'è tempo. Cos'è una 208 uguale? Mi è piaciuta il 208, eh. Si può fare tutta questa curva qua, inderappata così? Quasi, quasi. Ultimo giro. Eh, vabbè. Ultimo giro. Ok. Molto bene. Anche questa frenata da panico. Tac. Lascio. Faccio la mia curva. Ok. Fatto, fatto, dai. Però poi le impariamo, queste piste, dai. Cerchiamo di... Merda! Che cazza fa... Vado ai box, vado ai box! Non vado ai box. Attenzione. Scala di... F, f, f. Gara vinta. No male che... Io ho paura, seriamente, per le difficoltà più alte. Non andremo a guidare le auto tipo quelle veloci. Basta! Ultima gara di oggi. E cioè? Io direi di finire direttamente la... La f, f. Ok. Vabbè, sempre con questo perché non abbiamo altro. Vai! Cominciamo! Sfida, cara, f, f! Sempre con le nostre golf perché ci si. Queste ci abbiamo. Allora, P.G. non mi piace tanto, visto che non si guida proprio un gran che. Poi costava di più. Allora. Tanto quei... Io qua ti brucio con sta roba. Che cazzo macchina è di qua? È un bidone. Via. Poi freniamo. Caliamo un po'. Quello esce. Complimenti. Noi non siamo usciti per miracolo, eh. Cioè, non è che noi... Non si fanno ampeggiare qua. Oh. Vabbè. Sì, semi. C'è un po' di spazio magari anche, eh. Aspetta un momento. Dai, vai avanti. Che cos'è? Guarda che ti do una spinta io, dai. Vai, vai. Ok. Cioè, ma con la spinta nemmeno è riuscito a superare... Lì, la cosa? Volkswagen. Grande. Uuuh. Grande. Aia. Sì, vabbè, ho capito. Ma non vedi che c'è uno di fianco? Cioè, cosa fai? Ci vieni addosso? Mi ignora totalmente. Signore. Cos'è sta aggressività? Mamma mia. Sei incazzosi, eh. Ma che cos'è? Cosa gli avrà fatto mai? Non è che gli avessi offeso la mamma. Vada, vada. Che miseria. Vabbè. Dai. Forza, così. Ancora questo davanti c'ho. Basta, adesso tua mamma è maiala. E te l'offendo perché così almeno ti levi dei coglioni. Ok. Cosa freni? Cosa freni? Ma non si frenano in queste curve. Si fa così. Si va un po' a darare i campi. Perché se no qua non li arano mai. Porca c'è la miseria. Non lo sai? Un po' bisogna farlo. Se no poi il terreno... E dai, stai in strada. Ci vogliono i pneumatici quelli tipo Chewing Goom. Un po' meno di aceleratore. Ok, qua affonda. Ok. Oh, finalmente un po' di rettilineo. Quanti giri sono? Altri... Ah, bel po'. Non ho capito perché... Quando prende l'asfalto si pianta. Però, vabbè. Ci facciamo troppe domande. E niente. Ma queste ormai... Cioè, sono le mie ruotate quelle lì. Quindi, ormai quella è la mia pista. Cioè, me la son fatta fuori. Lasciamo per favore... A fare le 50 sta cacchio di curva. Alla meno le 50. Ok. C'è un'alfa quello. È una mito quella? Uè. Non capisco. No. 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 Non è una mito. Questa c'è un'altra Renault del cavolo. Vieni qua. La Megane lì. È una Megane. È una Megane. Ah. Troppo, troppo. Mi sono confuso a guardare la Megane. Attenzione. Incredibile. Andatemi a dire... Eh no. Sono uscita in pista perché stavo guardando la Megane. Vi diranno sei pazzo. Merda. Ma questa è la mia pista che mi sono fatto fino adesso, no? Giustamente. Cioè, tutte le ruotate. Ma io stai in strada qua, ragazzi. Voglio un'auto... Che sia decisamente più performante sulla tenuta. Perché non è possibile. Fa sta roba. Non c'è che arrivo il secondo. E niente. Vada, vada. Eh, non ce la faccio, raga. Cioè, quando lui decide di frenare è troppo tardi. Vabbè. C'è un modo nelle opzioni per dire anticipami la scritta frenata qua. Vabbè, non lo so. Comunque secondi, vabbè. Qua c'è un altro giro. Ah no, c'è un altro giro. Allora non tutto è perduto. Fermi tutti. Se io qua derappo, come se non ci fosse un domani. Quello addirittura è uscito di pista anche lui. Oh, non lo prendo mica, eh. Adesso l'ho voluto fuori. Concentrazione. Ok. Restiamo un attimo qua a corti. Fa sto tornantino. Va bene. Qua freniamo un attimo. Andiamo in seconda, anche se non è la nostra marcia. Andiamo di qua. Là in fondo, occhio, all'altro tornantino. Frena. Ok. Facciamo così ai 60. Proprio come se fossimo in gita scolastica. E qua a fondo, via. Ok. Non lo so. Ci dovrei giocare spesso, sto gioco, per prenderci un po' di confidenza. Però facendo anche gli altri, ragazzi. Cioè, io qua ci gioco una volta, forse a settimana, sì o no. E quindi ogni volta, ogni... Cioè, ogni volta che mi fermo, perdo. E quindi non ce la farò mai. Va bene. Ci vuole abbastanza allenamento. Quindi, ricompese ottenute. Abbiamo fatto. Ma la macchina ottenuta non ce la dà? Forse perché non siamo più online. Eh, vabbè, dai, chi se ne frega. Non mi puoi apprezzare ogni volta. Ok. Va bene. Comunque, qua adesso esco. Vi do appuntamento alla prossima, ragazzi. Grazie a tutti per aver visto questo video. Noi ci vediamo con i prossimi episodi di Gran Turismo Sport. Fatemi sempre sapere la vostra nei commenti. Condivisioni, ragazzi, al canale. Sotto i link in descrizione di tutti i gruppi. Eccetera. Vabbè, vaffanculo su questa schermata. Io vi lascio qui e vi do appuntamento alla prossima. Ciao, raga. Ciao, raga.